Salve a tutti ragazzi, io sono Yadita, in questo video vedremo Come creare un orologio di redstone Ma a cosa serve l'orologio di redstone? L'orologio di redstone è un meccanismo che mette in loop la redstone attivandola e disattivandola all'infinito Creare un orologio di redstone è molto semplice ci basterà solo della redstone e un ripetitore Posizioniamo redstone e i ripetitori in questo modo Successivamente settiamo i ripetitori al massimo e attiviamo il meccanismo posizionando e rimuovendo la torcia di pietra rossa Questo è tutto, se volete potete seguirmi sugli altri social in particolare unitevi al server discord Se volete trovare persone con cui giocare, scambiarmi informazioni o parlare direttamente con me Trovate tutti i link in descrizione